Le prossime elezioni europee sono elezioni molto importanti, sono importanti perché bisogna cambiare questa Europa che finora non ha funzionato e che ha creato tanta ingiustizia e poi perché bisogna contrastare da una parte i gravattari che sono i liberali, gli affaristi, quelli che l'hanno governata finora e dall'altra parte bisogna anche contrastare gli sfasci a carrozze che sono i populisti, i razzisti, i parafascisti che stanno un po' affiorando in tutti i paesi d'Europa, Italia compresa come sappiamo e noi siamo la sinistra europea che proponiamo una terza via, un'alternativa, ma chi siamo noi? Pure noi non è che ce l'abbiamo tutte al posto giusto, noi siamo dei contrabbandieri, siamo contrabbandieri di coraggio, noi siamo spacciatori, spacciatori di speranza, noi siamo persone per bene, siamo ribelli, avventati, generosi, che mettiamo a disposizione tutta la nostra passione per dare una mano a questa Europa.